E' no Lorenzo, eh? Adesso tu mi devi spiegare che bisogno c'era di dire non sono mia sorella, non sono mia sorella, eh? Buttarti per terra, fare quelle scene e piangere. Sono un uomo, non sono una santa, gli ho anche detto, scemo. Ma che imbecille, il Papa ci aveva imboccato, è stato zitto, no? Sai, sai, mi sono spaventato, vedere quegli occhietti celesti. Il Papa è il Papa. E tu sei un pistola. Comunque la macchina gliela dobbiamo mandare, scusa, se non altro per il disturbo che gli abbiamo dato. E poi, non so, se la tiene, la tiene, se no la regala, oppure fa un bel leasing all'Oppurtei. Però quando ci ha detto, figliuoli, siete dei birbanti, dei birbanti, se vedeva che gli eravamo simpatici, eh? Sì, poi ha detto, salutami tanto quella santa donna di tua sorella. Che sorella? Saluta ma sorta adesso. Ma smerza che sono anni e anni che mi rai più a scatola. E ora, basta, basta con sta storia, basta. No, 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 vedi, è un uomo. Lo giuro. I peli, come figli. C'è anche il pistolino. No, 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 abbiamo scherzato. E poi, come figli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.